Caso Lukaku, Fagioli difende i tifosi della Juve, ma poi annulla tutto. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Poche ore dopo la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, continua a parlare dell'episodio al termine della partita, quando Romelu Lukaku è caduto vittima di presunti canti razzisti dei tifosi della Juventus. Ma c'è chi si è alleato con i tifosi del club torinese, spiegando come tali incidenti possono accadere in qualsiasi stadio e da qualsiasi tifoso. Per fare questo è stato Niccolò Fagioli, rispondendo al commento di un utente su Instagram. Attraverso il suo profilo Instagram, Niccolò Fagioli è stato protagonista di un avanti e indietro con un utente, che tra i commenti della sua foto postati sui social network lo ha attaccato dopo l'episodio che ha coinvolto Lukaku. Razzista e questo è il commento postato dal ragazzo sotto la foto di Fagioli. La risposta del centrocampista della Juventus, con cui ha anche condannato i tifosi dell'Inter, non tarda ad arrivare, quando a San Siro gridavano Zingari a Kostik e Vlaovic invece, era vero? Comunque, Fagioli ha deciso di cancellare il suo commento poche ore dopo.